Dal genio visionario di Il Fumatti a Bazar Sei misteriose risvegli Che storia Oh mio dog, dove sono? Maronne! Sei personaggi abbandonati in un luogo sperduto Oh, ce la fai? Aiuto, non posso andare al sole, mi schifo la sua pelle Eh, cosa sta succedendo? Do you remember qualcosa? Un'unica possibilità di salvezza Miracolo! Lì c'è un furgone! Maronne! Ci sono anche le chiavi! Ma qualcosa va storto Oh, ragazzi, buoi qualche grigno! C'è una patente! Io non ho mai guidato, lo faccio guidare il mio schiavo Ragazzi, io non me la sento, io ho guidato a destra. Io già mai non lo posso guidare, ma tu! Ma 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 siete pazzi? Se mi fermano mi ritirano la patente! Fate guidare il vampiro! Ah, io è massimo! Posso guidare la carrozza! È possibile! Se sei perso e nessuno non abbiamo la patente! Sarai un'ottista! Sì, Rodi! Yeah, un'ottista! Dall'autore di Uno Nessuno e Cento Miglia Dove? Autista! Autista! La donna che hanno sei personaggi in cerca d'autista Sì! Un film scritto e riletto da Luigi Pirlandello In... Dove? Autista! Autista! Sei personaggi in cerca d'autista Un film scritto e riletto da Luigi Pirlandello